Samsung lancia anche in Italia il Galaxy Tab, il famoso tablet che dovrebbe far concorrenza all'iPad di Apple, anche se Samsung lo vuole spingere su una fascia diversa. Un prodotto infatti destinato alla mobilità da portare in giro e non da tenere a casa. Infatti, come potete ben vedere, siamo appunto in giro. Anche la confezione è una cosa totalmente nuova per Samsung, una confezione molto più Apple Style, quindi scatola in cartone rigida con il prodotto centrale e appena uno toglie la scatola c'è subito qua il Tab ad accoglierci. È proprio la prima cosa che tocchiamo, niente manuali, niente fogli, niente imballi, ma semplicemente il Tab è protetto da una pellicola protettiva. Vediamo l'oggetto, è compatto, piccolino, ci sta tranquillamente nella tasca di un cappotto o di una giacca e può essere tenuto ovviamente sia in orizzontale sia in verticale, quindi in modalità portrait o landscape. Vediamo il prodotto nel dettaglio, il retro bianco lucido con la fotocamera nella parte alta, il peso poco più di 300 grammi, molto molto leggero, più leggero ovviamente dell'iPad, lì nel dettaglio la fotocamera 3 megapixel posteriore con flash, c'è una fotocamera anche frontale e sul lato ci sono lo sportellino per la sim e per la micro sd di espansione per espandere appunto la memoria interna da 16 giga a 32. Sotto troviamo il piccolo socket proprietario per la ricarica, mentre sopra invece il jack per le cuffie. Ricordiamo infatti che il Tab è anche telefonare, quindi non solamente navigazione internet e possiamo utilizzare appunto l'auricolare per fare le nostre chiamate, ovviamente il supporto anche l'auretale bluetooth. Sblocchiamo ora il dispositivo, il display come vedete è molto luminoso, abbiamo messo lo sfondo, la galassia animata perché ci sembrava, siamo più centrati sul prodotto rispetto a quello che viene messo in dotazione, però ovviamente lo sfondo animato consuma leggermente di più. Samsung ha inserito nel Tab un'applicazione apposta per la gestione della memoria che ci dice quale applicazioni sono attive e cosa possiamo fare. Vediamo ora la reattività, reattività immediata nel caricare le applicazioni, nello sfogliare tutto, quindi un dispositivo sicuramente migliore di molti altri dispositivi Android che ho lanciato. Al momento abbiamo lanciato YouTube e vediamo nel questo task manager appunto qual è l'occupazione delle memorie di YouTube e possiamo addirittura terminarla direttamente da lì. Quindi possiamo prolungare l'uso della batteria utilizzando questa comoda applicazione di Samsung che include anche una guida appunto al gestione del Tab per migliorare l'utilizzo della batteria che può arrivare tranquillamente alle 10 ore. 5 schermate principali che scorrono velocemente, quindi senza problemi, senza ritardo, anche se un minimo ritardo nel touch è sempre avvertibile ma non è colpo di Samsung, è colpo più di sempre per il Android e le applicazioni che Samsung ha predisposto, incluso appunto questo Daily Briefing che vediamo qua. Daily Briefing praticamente concentra meteo, notizie di mercato, notizie di finanza, direttamente in un'unica applicazione. Aggiungiamo per esempio adesso le azioni, un pari di azioni della Juventus, una squadra a caso. Vediamo che il sistema cerca appunto tutti i titoli in borsa, quotati nelle varie borse europee, noi scegliamo quello che vogliamo, lo aggiungiamo, vediamo al momento l'andamento azionario, quindi diciamo un prodotto è destinato anche al businessman che vuole trovare direttamente in home grazie ad un widget tutti gli andamenti, gli indici di borsa delle azioni che possiede. Vediamo il menu invece quello dedicato alle varie applicazioni, sono disposte chiaramente a icone, cambia leggermente l'interfaccia di Android, viene personalizzata ed è più simile a quella dell'iPad. Una delle novità di questo Tab è la presenza della funzione ADLNA, possiamo grazie ad un'applicazione trovare dispositivi che possono riprodurre i nostri contenuti, sceglierli e inviare i contenuti del Tab, quindi le foto fatte e i video, le segnali della fotocamera, direttamente al nostro tempo predisposto. La fotocamera da 3 megapixel, ha un flash, funziona abbastanza bene, l'interfaccia come potete vedere è vagamente simile a quella dell'iPhone, non dell'iPad ovviamente che non ha ancora la fotocamera, col tasto quella forma e il piccolo switch in alto che ci permette di cambiare tra fotocamera e videocamera. Torniamo in un'abilità portale normale, altre applicazioni, Samsung ha realizzato una serie di applicazioni dedicate appunto a questo Tab, ha inserito anche un'application store e una serie di Hub destinati a delle applicazioni realizzate ad hoc, per esempio l'Hub Libri è composto da magazine, quotidiani e riviste, al momento i quotidiani non funzionano ancora, però c'è una libreria di book che si appoggia a Kobu e i magazine ancora non sono disponibili, ma a breve lo saranno. Samsung Apps è l'app store, lo store nello store di Samsung, in questa piccola applicazione Samsung andrà disponibile tutte le volte che ci sono applicazioni personalizzate gratuite, nuove aggiornamenti, così per tutto ciò che riguarda il modulo del Galaxy Tab. Installiamo ora un'applicazione per vedere appunto come si comporta con le applicazioni di questo dispositivo, la sta installando, vediamo in alto nella barra delle notifiche che si possono attivare o disattivare direttamente le opzioni di connettività per risparmiare la batteria, quindi possiamo spegnere il GPS, possiamo spegnere il Wi-Fi, il Bluetooth e il 3G. Diamo via l'installazione e torniamo nella nostra menu applicazioni per vedere qual è l'unico vero limite di questo dispositivo qua, che non è il limite del dispositivo ma è il limite di Android stesso. Apriamo per esempio TweetDeck, dopo aver visto ancora una volta che il display è veramente reattivo, il sistema, TweetDeck, così come molte altre applicazioni molto famose, viene aperta a pieno schermo. Anche Kayak per la ricerca così viene aperta a pieno schermo, mentre invece alcuni giochi, le applicazioni più vecchie, ci mostrano attorno un quadrato nero, questo perché sono ottimizzate per una risoluzione di 480x800 che è quella degli smartphone e non quella del tablet. In questo caso non resta fra altro che contattare lo sviluppatore e chiedere per esempio di avere anche la possibilità di avere una risoluzione più elevata, altrimenti dobbiamo giocare col bordo nero attorno. Torniamo alla storia di esplicazione, vediamo il Corriere della Sera. Il Corriere è stato sviluppato apposta per il tab, è una digital edition, in realtà non è altro che il PDF dell'ultima edizione che possiamo semplicemente sfogliare passando tra le varie pagine ed è un esclusivo questo qua del Galaxy Tab Samsung. Utilizzando la funzione IP in sto zoom possiamo andare a vedere tutte le applicazioni e quindi dividere le pagine in diverse pagine perché quando abbiamo moltissime applicazioni è anche difficile andarle a recuperare in un batter d'occhio. Gestione della mail, il client mail è molto ben fatto, molto veloce. Gestione telefonica, anche questa qua ha un'interfaccia che è realizzata davvero bene quindi possiamo editare i contatti, gestirli nel migliore di modi, sincronizzarli ovviamente con il nostro cloud. Navigazione web, invece il browser è l'unica cosa che probabilmente necessita di un piccolo miglioramento perché è reattivo ma non è reattivo come quello dell'iPad. Adesso proviamo a caricare la pagina di dday.it, una frazione di secondo per il caricamento ovviamente dipende dalla nostra connettività. Sta arrivando il nostro sito, il browser dispone di flash ovviamente si può vedere che sono ricaricati i banner e come possiamo vedere c'è il pinch to zoom, è molto molto veloce però per esempio sullo scrolling, soprattutto delle pagine lunghe, un minimo di ritardo e qualche incertezza c'è e flash non è sempre così pronto soprattutto sulle animazioni complesse come ci aspettavamo. Tenendo premuto il tasto home ovviamente si accede a quella che è la parte di multitasking di Android quindi possiamo tornare alle altre applicazioni. Per uccidere, diciamo, chilare le applicazioni attive c'è sempre il widget Samsung che ci permette di vedere cosa abbiamo attivo, chiuderlo per risparmiare così memoria. Vediamo il menu quello destinato alle impostazioni, anche qua le icone sono state personalizzate direttamente da Samsung. Troviamo un pratico menu per vedere l'utilizzo della batteria, quindi le applicazioni che stanno usando la batteria e in che percentuale la stanno utilizzando, tutti possiamo rendere conto di quali sono le applicazioni che consumano in più. Gestione del Wi-Fi, possiamo creare anche un hotspot, cosa ovviamente permessa da Android 2.2. Andiamo in modalità landscape, anche qua i widget vengono girati. Abbiamo il nostro browser che viene ovviamente arrivato in modalità landscape. landscape è un pochino più lento di quello che è in modalità portrait, probabilmente viene fatto uno scaling e quindi il dispositivo reagisce un po' meno bene. La tastiera è ampia, si utilizza bene. Interessante soprattutto il feedback che ci consente di essere leggermente più precisi nella digitazione. Vediamo ora Flash, è un sito che dispone di Flash, è fatto praticamente solamente in Flash. Flash si comporta bene, non ha nessun problema con la maggior parte dei siti, tranne quelli che fanno utilizzo massiccio di Flash per quanto riguarda i video, quindi per esempio Megavideo e altri siti di streaming che potrebbero avere qualche difficoltà, per esempio a noi è successo che un paio di volte in tutti i siti blocchiati siamo dovuti riaprire semplicemente il browser e tutto è andato a posto. Nel complesso comunque il tab è un ottimo prodotto, compatto, portatile e chi lo compra non resterà assolutamente deluso dell'acquisto, anche se il prezzo comunque è decisamente elevato, questo lo sapevamo già.